Quello che forse la gente si chiede è proprio questo, ma ci stiamo rendendo conto di che cosa sta accadendo o nonostante tutte le battaglie anticaste eccetera c'è ancora un po' questo scollamento per cui chi dovrebbe rappresentare la popolazione non ha ben chiaro, non è ben fotocopia di quello che sta accadendo? Guardi, non bisogna farsi confondere dalla macchina del fumo di Grillo e dei grillini perché il Parlamento intanto ha preso due decisioni importanti, io faccio parte della commissione speciale che è una commissione transitoria finché non saranno costituite le commissioni ordinarie e in questa commissione sono stati approvati due risoluzioni, una risoluzione e un parere particolarmente significativi il primo era la base politica e giuridica del decreto fatto l'altro ieri dal governo dei 40 miliardi diciamo così del pagamento dei debiti, di una parte dei debiti perché sono più di 90 miliardi che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti dello Stato e devo dire che in questa commissione su questo tema il contributo del Movimento 5 Stelle non è stato particolarmente rilevante mentre invece si è arrivati, poi alla fine l'hanno votato anche loro, a delineare una risoluzione che poi l'Aula ha approvato in modo che il governo potesse procedere a fare questo decreto che consente, mettendo dei titoli pubblici, di pagare, speriamo molto in fretta come giustamente sollecitano le imprese nel giro di 12 mesi ha detto Monti in conferenza stampa speriamo che le procedure siano il più semplici, trasparenti e il più chiare possibile e il più rapide possibile Allora è sbagliata questa grafica, toc toc c'è qualcuno nel senso che la sensazione della popolazione è che c'è una paralisi non sta succedendo nulla, qualcosa sta succedendo quindi i grillini a loro volta a dire noi vogliamo che si comincino a lavorare piuttosto che occupiamo la Camera sono fuori sincro, insomma Sicuramente la situazione è straordinaria nel senso che sono passati 40 giorni quasi dalle elezioni non c'è un governo, questo lo capisce anche l'uomo della strada insomma che c'è qualcosa che non torna è che il rebus, l'equazione a tre incognite con tre forze di pari entità non consente fino ad oggi di far nascere un governo però nel frattempo alcune cose importanti, volevo dire questo, sono state fatte poi le commissioni, i grillini sostengono bisogna farle anche senza un governo il problema è che le commissioni riflettono nel loro governo l'equilibrio che si trova nella maggioranza di governo cioè corrispondono alle maggioranze di governo e quindi è un po' singolare certo noi per esempio alla Camera Quindi anche le commissioni rischiano di essere paralizzate in un certo qual modo perché se come lei spiega le commissioni lo spieghiamo anche a chi non pratica la politica le commissioni sono specchie in un certo qual modo della situazione parlamentare quindi se quella è bloccata perché c'è questo meccanismo di impasse si riflette anche nelle commissioni le commissioni, mi corregga se sbagliano sono quelle che lavorano quindi devono arrivare a realizzare le proposte di legge i disegni di legge eccetera chiaramente anche quelle sono bloccate Assolutamente sì nel senso che è stata appositamente costituita questa commissione speciale transitoria proprio per affrontare i provvedimenti urgenti che intanto il governo perché un governo c'è Però voi non eravate saggi? Come? No, se c'è la commissione se è stata formata una commissione transitoria perché sono stati messi pure i saggi secondo lei? Ma i saggi credo Questa cosa dei saggi è un po' curiosa la chiedo anche a Viale Viale è curiosa questa cosa dei saggi? Se c'è una commissione io adesso non ci avevo presente ma c'è una commissione transitoria No, ma hanno due funzioni completamente diverse Ah, funzioni diverse Assolutamente sì Il saggi da Messina Politano è una ipotesi sua di gestire una fase della crisi che sta nelle sue mani poi uno può criticarlo o meno Ma se c'è una commissione transitoria non sono collegata le cose è come se dicesse la Confindustria che durante tutto il giorno vanno al bar al ristorante eccetera è un quarto grosso il gruppo dell'azienda durante la giornata di uno fa quel che deve fare cioè io penso bisogna avere un senso anche delle proporzioni altrimenti facciamo come i grillini che sono il partito in questo momento che più rivendica di scipia di partito l'impossibilità di votare in modo diverso da come decide il gruppo è il leader e poi chiedono che si facciano le commissioni dove teoricamente il funzionamento diverso sembra solamente in cui i singoli partecipanti hanno una certa libertà propria confermata poi in aula se questo non accade è soltanto una questione di una caprina per cui mi pare che anche i grillini in questo momento sono presi in contropiede probabilmente perché non si aspettavano di avere una forza così pesante di condizionare in questo momento il quadro politico sembra stato molto più semplice avere grillini al 10-15% non in grado di modificare le alleanze di governo e fare il megafono di chiunque invece devono per forza oggi assumersi delle responsabilità e che li hanno presi in contropiede è evidente che sono presi in contropiede e non sanno bene cosa fare sono i primi loro a non sapere cosa fare perché se grillini fossero in grado di fare delle scelte sicuramente questo condizionerebbe le opinioni e le scelte degli altri gruppi questo è un po' di